Le tantissime macchie presenti sul Selciato dimostrano quanto questo punto sia utilizzato per fermarsi, sostare brevemente, per prendere i ragazzi che escono dalle scuole per una breve commissione in centro. Nei pressi di questa rotatoria, vicino ai pannettoni che abbiamo appena messo, molte persone parcheggiano. L'appello che faccio è non parcheggiare più perché siamo all'interno di una rotatoria. È pericolosissimo parcheggiare sia per chi usa la rotatoria sia per chi parcheggia. Non si può fare contro la legge e inoltre è sanzionabile con ammende abbastanza pesanti. Quindi per rendere anche più bella questa zona invitiamo la cittadinanza a non parcheggiare qui. Ovviamente abbiamo chiesto l'impegno ai vigili urbani di fare più attenzione e per evitare di prendere multe molto salate ricordiamo che all'interno della rotatoria in particolare in questo punto non è possibile assolutamente parcheggiare neppure sostare per alcuni minuti. Però qui siamo nel raggio della rotatoria. Qui le macchine che vogliono proseguire verso Pesaro utilizzano questo raggio della curva e quelle invece che vogliono andare verso l'interno, quindi verso Fossombrone, verso la Falminia, girano attorno alla fioriera. Però questa è un'area di circolazione. Occupando quest'area mezzi anche grossi come camion oppure anche come pullman fanno fatica a proseguire in direzione Pesaro. Quindi assolutamente non sostate e non parcheggiate in questa zona.